Buona Nikita! Stop! Ciao ciao! Oggi noi giochiamo con le ordi Dobbiamo trovare le sorprete Serena, non staccare le pandine Non è che la miscola Che strana! Guarda! WELLY! E' mia! Che bella, sembra una caramelo Guarda! E' un pozzo di plastica Allora, partiamo! 1, 2, 3 Già trovato! Quello che volevo comprare in edicola Su, dove cerchiamo ancora? Un errore enorme! Vediamoli chi trova Che avevo l'enorme! Madonna! Eccolo! Quella lì ha il cane Quella lì ha il cane Uuuuuh! Dai, io a te hai visto per prima Io non c'ho più niente Eh? Non si trova niente Oh oh! Silenzio! Se trovo quell'oro C'ho un incontro con i me contro te! Se prendo quell'oro C'ho un incontro con i me contro te! No, io non ce ne ho più Sì, te! Iniziamo subito dalle loro Hai le unghie cavoli! Io ne ho già strappato Oh! Non è strappato Eccola! Non è strappato niente Sì, invece Madonna quanta carta! E certo eh! Si servono tanti strati! Oh! Uno stickers! Uh! Wow! Come il gomitolo! No! Tu c'è Tu c'è la cosa che Tu tira e fa pop! Oh! Oh! È vero! Mi ero dimenticato! Ehm! Tu amore! Wow! Il mio non c'ha quello che scoppia Il tuo quello che scoppia Uh! Visto? C'è questo packaging Da dove? Prima devi aprire questi Uh! Che belle! Vediamo se ve la Wow! Speriamo che non è al cricetto Che è il mio preferito Ehm! Le scarpettine Come si apre? Ah! Ecco perché Uh! No! Ho sbagliato Che cosa c'è dentro Ligita? Boh! Qualche confettino Così bene Spieghiamo le mie noi Cos'è che ti torò? Ecco qua Alestina Vediamo la tua Serena Allora non sei capace Sì Allora Vediamo cosa ci sono Sento già le scarpette con le mie dita professionali Dai Sono quelle da ginnastica Pam! 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 Scusate un mio piccolo momento di baldoria Tiriamo Vediamo cosa c'è ancora qua di interessante Quante Il terexle Is not Really Oh! No! Le scarpe sono giganti Non li stanno Vabbè Forse vanno messa in testa No! Oh! Il biberon C'è scritto Pop! Pop! Confetti Ci devi mettere dentro l'acqua Guarda che c'è il buchino Si riempie E tu fai così E fa la pipì Guarda qua Oh! E sputa E sputa acqua No dai Sì Sai che anche la tua Ah è vero la tua No! No! Ma che Questo qua è la tua mamma! Eh sì Posso un po' usarla? Eh Carota Listo? Ok C'è anche con le bambole Nikita adesso Shhh Eh? Shhh no E allora Alla stessa Guarda quanto il ginnastico ho fatto oggi Sto per vomitare Devo bere Uuuuh 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 Io devo vedere Dove la pipì Dipende Ah C'era troppo poca acqua Eppure Può fare la pipì e devi togliere i pantaloni Se no li blocca No 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 Sì Guarda che fa la pipì Guarda qua che è bagnata Oh si è bagnata i pantaloni Wow L'hai spaccata No Sì No Sì Gli hai staccato la testa No C'è il buco nelle orecchie Eh lo so Mi hai spaccato la bombola Mi hai spaccato la bombola Mi hai spaccato la bombola E' riparata Vediamo se spaccato la bombola Fammi entrare al ciuccio Ehh Fammi entrare al ciuccio Ehh Fammi entrare al ciuccio C'è dentro la bombola C'è dentro la granata la parte più importante Poi Guardate tutti La seconda volta Ora I pantaloni con dietro la felpina La giacca Il bomber Le scarpe Il biberon E gli occhialini E serena cosa ha trovato invece? Trovato questa Questa Vediamo Vuoi vedere? Avvicinelo un po' Questa 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 Meglio Hobbies E' qua Uno, due, tre Ce l'hai Quando si baciano Quando gioca con i birilli Ultimo pacchetto Molu, molu, molu Già mi capiterà la cosa urgente Io inizio a sparare fumo da tutte le parti Un pezzo di una coperta molto divertente Poi Vediamo La giampa del cane Il gatto Il cane Ah 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 Guardate qua Vediamo cosa c'ho Yeah La tegre La più rara No Sì Sì la più rara Ah Tta, tta, tta 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 ttu 3 hot, 2 hot, 1 hot, 3 hot, 2 hot, 1 hot, io voglio prendere quella verde, quella verde è livello 1, questa qua è livello 2, è livello 3 la più forte al mondo, questa qua, assaggiamolo, livello 1, sono sempre sfortunata, livello 1 è meno piccante, non sputare, è ancora peggio la rossa, aspetta, 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 verde, ha paura, mettela tutta, ha il fuoco, per cacchio le figurine di bianca no non sono figurine ecco c'è questo vediamo questo però volevo avere questo non può te la più rara qual è questo ciao ciao a canale mi chiedete mettete like e iscrivetevi al canale di kittà ci sono le fieste tra questi qua quale era il più bello e scrivetevi sotto nei commenti qua giù ciao 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 Grazie per la visione!